Alberto Romanato, delegato a Ispadova, qual è il programma delle DOCG alla Bazzia di Praglia l'8 maggio? Ci sono oltre 150 aziende che portano i loro vini con tutte le 74 DOCG appartenenti, appunto, le eccellenze italiane. Nel pomeriggio avremo anche una degustazione di sigari col fumelier Lodovico Masetto che terrà appunto queste degustazioni di sigari abbinati ai distillati e abbinati ai distillati dell'azienda Bonollo e al Marsala dell'azienda Pellegrino di Sicilia. Prima di sera avremo la visita guidata alla Cantina Storica dell'Abbazia di Praglia e sono libere anche queste, quindi io credo che ci siano tutti i motivi per passare una buona domenica. Gio 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 Gio